Musica 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 Sai cos'è un problema che sto notando adesso, adesso che siamo ancora all'inizio? Siamo lenti come schifo, non solo nel volo in generale, siamo proprio lenti Eccoci qui Operazione Flytrap Madre, devo trovare il colonnello Rux è stato lui a cercare di uccidermi in quel laboratorio James, il colonnello Rux è il comandante capo della Blackwatch a New York Zero, questa è roba grossa, ascolta questo messaggio Blackwatch che ho intercettato Cottonmouth 4-1, qui Cottonmouth dirigetevi in siti di ricerca a Washington prepararsi al rilascio controllato, passo Ah, spero, sbagliato Questi esemplari sono i mostri e i siti di ricerca sono parchi per famiglie ecco cosa fa la Blackwatch nella zona gialla, devi fermarli Padre, li fermerò e troverò Rux Non riesco Senza il suo aiuto Vorrei Ah, è ok L'ho fatto esplodere? Penso di sì Comunque L'ho lanciato un cavolo di decoder gigante in testa sta gente nessuno ha detto nulla Scusami, ho fame mi spiace Datemi un aggiornamento Stiamo caricando gli esemplari Passo Eccoci qua Shhh Red Crown, squadra di liberazione Alpha 1-1 Actual Le squadre Alpha, Beta e Gamma stanno raggiungendo la posizione Mi ricevete? Le loro armature sono bellissime Operazione furtiva Arrivano lì cost'armatura gigante un camion e i fucili puntati Voglio proprio vedere quanto siano furtivi questi Ma che pezzi di merda che lasciano giù i mostroni giganti all'interno di ste zone Schifo di persone Comunque ho la vaga impressione Aia Elevati Eh, cosa ti aspettavi? Che stavamo fermi? Aia No, ma io voglio attaccarlo in salto Ma che caglio No Ho preso quello sbagliato Ma porca Vabbè, dai Sai cos'è il problema? È che se io faccio la X lui schiva in automatico Quando in realtà io vorrei solamente saltare Porca Ecco qua Dai, almeno Vieni qua E lo perderemo E lo perderemo A livello di schivate comunque lui è bravissimo La smetti di schivare Tanto vi siete trasformati quasi tutti voglio dire Quindi Proviamo un po' questi giocattoni No Io continuo a sbagliare tra l'altro Perché nella mia testa la schivata è col cerchio Non con la X Oh Oh, figo Quindi tenendo premuto quadrato facciamo l'artigliata in avanti Ok Bonus esegue attacco in marzo con gli artigli Grazie Che è esattamente quello che ho appena detto Vieni qua che ho bisogno di mangiare Ho degli artigli Porca puttana Ok Io intanto mi sono mimetizzato Nessuno sa dove sono E soprattutto tu Con lanciamissili non lo sai E l'altra metà tra poco morirà con te Ecco fatto E io ti magno Tra l'altro sono stronzo perché ho ucciso quello con il DNA Sono veramente stupido però l'avegli lanciato il missilazzo contro è stato molto divertente Attenzione Vieni qua No ho sbagliato Vabbè Ecco fatto Questo massacro raggiungi la chiesa Padre ho fatto un massacro ora crede di nuovo Certo figliolo tutto a posto Sto attacco l'ho fatto giusto per cattiverio Aspetta Aspetta Addio militari Ecco qua Padre ho fatto un casino Padre James Sei stato al parco Sei Ti sei fatto una passeggiata bravo Ah li ho fermati per bene Mi sembra che sta dicendo una cazzata Seguimi Abbiamo molto da fare Ah Già dato pure la bibbia a regalo Dai Ci sono 10.000 uomini della Blackwatch a New York E chissà cosa sta combinando la gente e chi in quei laboratori Eh la madonna Dobbiamo assolutamente fermarli Eh certo Siamo i prescelti noi Dunque si fide di lui Questo non lo so Ma posso dirti James che se Alex Mercer vuole uccidere fino all'ultimo soldato della Blackwatch e della Gentech Allora sono con lui Ma perché si tanto voglio dire Che mi dice di Dio È d'accordo Lascia che ci pensi io No Ci parlo io col capo Operazione Flytrap Uh livello 2 Che abbiamo sbloccato Movimento Però è anche vero che siamo ancora all'inizio quindi possiamo gestirla La rigenerazione per quanto strano possa sembrare è il meno dei problemi Perché dico questo basta prendere qualcuno magnarsio e ci siamo ricaricati la vita D'accordo padre Dov'è Rooks? La sua posizione sarebbe segreta ma in passato violavamo i terminali della Blacknet per rubare questo genere di informazioni I terminali sono in quelle camionette con satellite che vedi in giro Non sapevo che fossi un ribelle Cosa faceva prima di diventare un prete Diciamo che mi sono fatto cancellare molti tatuaggi Mi basta Oh Hai capito il prete Eh? Diciamo che mi sono